Abbiamo fatto una grandissima rimonta dall'inizio dell'anno che non era partito nel migliore dei modi e abbiamo dimostrato di essere veramente un gruppo molto compatto, molto unito con tanti grandi giocatori quindi possiamo veramente ancora fare grandi cose, possiamo mettere in banca questo terzo posto ed essere contenti perché abbiamo fatto veramente una grande rimonta quindi ci crediamo fino alla fine ma innanzitutto abbiamo un punto di più quindi siamo più avvantaggiati diciamo che queste quattro partite sono veramente fondamentali, siamo riusciti a battere il Catane che anche lì non era assolutamente facile sono arrivati a San Siro con una gran voglia di lottare e di vincere ma noi abbiamo fatto sotto il punto di vista dell'attenzione della concentrazione e della determinazione è veramente una grandissima partita quindi dobbiamo continuare su questa strada facendo sempre più punti